Informare le pubbliche amministrazioni piemontesi sui nuovi obblighi in materia di acquisti verdi. Questo l'obiettivo del convegno SOS Acquisti Verdi, strumenti per il territorio, che si è tenuto giovedì 6 aprile nell'auditorium della città metropolitana di Corso Inghilterra a Torino. L'evento è stato organizzato da Consip.pa in collaborazione con il progetto APE, Acquisti Pubblici Ecologici della città metropolitana. Ad aprire i lavori il vice sindaco metropolitano Marco Marocco e la consigliera delegata all'ambiente Elisa Pirlo. È un'importanza strategica perché va nella direzione di portare anche all'interno della pubblica amministrazione acquisti volti alla salvaguardia dell'ambiente, quindi risparmio energetico, diminuzione delle emissioni di CO2 ed anche un avvio di quella che dovrebbe essere un'economia intesa in senso circolare e non più in senso lineare. Per cui è una visione strategica che abbiamo all'interno della città metropolitana di quello che devono diventare anche le pubbliche amministrazioni nel futuro. E la cosa più importante è che noi siamo partiti ancora prima dell'obbligo della legge nazionale perché questo progetto è partito in maniera sperimentale e volontaria nel 2003 in quella che era allora la provincia di Torino, oggi città metropolitana e da allora abbiamo fatto passi da gigante perché adesso siamo oltre il 50% di acquisti verdi nei comuni coordinati dalla città metropolitana, quindi un'importanza fondamentale per noi. In tutta Europa gli acquisti pubblici ecologici continuano ad affermarsi come uno strumento chiave per ridurre i consumi di energia e per orientare la domanda e l'offerta verso beni e servizi a minore impatto ambientale. Rappresentano un vantaggio e sono anche quantificabili, ovviamente laddove la connessione sia con il risparmio energetico e per questo abbiamo effettuato come Consip nel nostro annual report anche una valutazione annuale di quelli che sono i risparmi economici derivanti da azioni verdi e sono state anche certificate dal Politecnico di Milano. Queste azioni sono man mano diventate sempre più importanti anche se il paradigma che le connota è legato proprio al calcolo dei costi sul ciclo di vita quindi anche la valutazione dei risparmi sia energetici e quindi economici traducibili in euro sia i risparmi relegati al materiale di consumo, in alcuni casi anche una diminuzione dei rifiuti prodotti. Quindi c'è una ragionevole capacità di andare a intercettare anche una sorta di circolarità in questa economia che non riguarda solo ovviamente la fase di fine ciclo vita ma riguarda proprio la progettazione di un prodotto, di un servizio, di un lavoro e poi come viene in realtà questo prodotto, servizio, lavoro utilizzato dalla pubblica amministrazione. L'obbligatorietà per le pubbliche amministrazioni di contribuire al conseguimento degli obiettivi ambientali è stata ora sancita dal nuovo codice degli appalti.